buongiorno a tutti voi e bentornati in questo nostro nuovo video vi presentiamo il volume come realizzare una mano bionica in autonomia progettazione assemblaggio di una protesi tecnologica stampata in 3d e pilotata da arduino l'autore matteo capobussi e l'editore e libri sandit questo interessante volume costa 11 euro 90 vediamo un po l'indice l'idea di fondo il percorso le tecnologie utilizzate il guanto di controllo la protesi i componenti l'assemblaggio verifiche sul campo conclusioni e risorse utili è un volume veramente completo e interessante con tante belle immagini speriamo che questo volume possa essere utile a tutti coloro che sono appassionati di robotica di tecnologia di elettronica e soprattutto persone che vogliono realizzare quello che studiano quello che osservano quello che vedono quindi qui possiamo passare a una realizzazione pratica di una mano bionica buona costruzione a tutti voi e vi aspettiamo per un prossimo nostro video se volete potete anche iscrivervi al nostro canale grazie grazie a tutti